buongiorno amici vi siete persi qualche puntata vero siamo arrivati in messico scherzetto ci siete cascati buongiorno da manitù springs in colorado siamo in questa cittadina a circa 10 11 chilometri da colorado springs che fa più o meno 5.000 5.500 abitanti e siamo venuti qui per la sua acqua miracolosa la sua acqua curativa vediamo se ci fa ringiovanire un po che dici ma no the famous manitù springs healing waters ossia le acque curative di manitù springs pensate che per secoli i nativi di questa zona hanno usato le acque minerali di questa fonte per curare problemi di stomaco e problemi di pelle addirittura nell'epoca vittoriana la gente scappava della città per venire a prendere aria fresca e curare qui la tubercolosi con quest'acqua a me bevo 10 litri così sto bene per tutto l'anno ma minimo 10 litri alla pelle è certo esatto non vedi che c'è scritto che è effervescente pensa sere che ogni anno ad ottobre c'è un evento particolare che si chiama la corsa delle casse da morto ma dai all'anima del particolare qua manitù springs e poi mi richiedi ma dove le trovi queste notizie? allora il tuo pusher di notizie strane esatto allora alla fine dell'ottocento una donna che si chiamava Emma Crawford era venuta qua in cerca di una soluzione perché proprio lei aveva la tubercolosi la leggenda di Emma Crawford dice che aveva fatto richiesta al suo compagno di vita prima di morire evidentemente l'acqua di Manitou Springs poi alla fine non aveva fatto il miracolo di essere sepolta in cima a una collina qua sopra Manitou Springs adesso il problema era stato che poi dopo qualche anno era arrivata la ferrovia qua Manitou Springs e pensa stava passando proprio vicino a dove era sepolta la povera Emma quindi i capi e gli ingegneri della ferrovia hanno praticamente spostato il corpo della povera Emma dal posto dove era stato appunto sepolto e l'avevano spostato più sul ciglio della collina e sfortunatamente dovute alle piogge torrenziali che c'erano state poco dopo praticamente due ragazzi avevano trovato le ossa la cassa della povera Emma a valle qua a Manitou Springs e praticamente la corsa delle casse da morto che è nata nel 1995 la corsa delle casse da morto la corsa delle casse da morto che è nata nel 1995 è che ragazzi più 10.000 persone ogni anno pensa spingono delle specie di casse da morto finte ovviamente cioè voglio dire così da per divertirsi ma con una persona dentro che è tipo come se fosse un carrettino da qua valle Manitou Springs sulla strada fino alla collina dove la leggenda narra appunto che era sepolta la povera Emma Crawford ma quante ne sa quante ne sa questo metto ma lo sai dove sono appoggiata lo sai che cos'è questa roccia è stata messa qui nel 1912 e segna il più antico sentiero indiano di tutti gli stati uniti il sentiero della tribù Ute ma hai visto che ce n'è un'altra ce ne sono un sacco di fonti in tutta la città e tutte di acqua potabile e di acqua di fonte the eagle dancer in realtà è la danza della pioggia quella che tutti noi chiamiamo la danza della pioggia invece è la danza dell'aquila quella che facevano i nativi americani quelli con le piume che ballavano che sono questi noi erroneamente la chiamiamo danza della pioggia e invece è la eagle dance che dici gliela do anche io una gozzatella? ma un 10 litri almeno anche te perché speri che mi faccia ringiovanire eh? oh vai via gozzatella anche qui iniziamo un po' a abituarci con lo stile messicano ci sono già un sacco di cose che più scendiamo al sud e più ci avviciniamo alla frontiera e più iniziamo a vedere questo tipo di artigianato W e qui fuori c'è un odore di fritto pazzesco e Ale ha già la bavetta, cosa vuoi fare? ci prendiamo un aperitivino adesso, che sarebbe? due pacchettini mignon di bignè, ah non è un aperitivo, quindi una merenda merenda ti posso lasciare un attimo da solo che fai danni, faccio danni, sempre danni mostro il contenuto, ma niente di particolare voglio dire, sono tre frittellozze di pasta fritta, facciamoci del male, certo, apporto calorico, fai te la prova bollenti buone quelle di new orleans, saranno più buone e visto che sono le sei e il parcheggio non si paga più ne approfittiamo per vedere una cosa pazzesca una sala giochi che prende tutto l'isolato, una cosa immensa, un po' l'aperto, un po' all'interno guardate si chiama Penny Arcade, quindi sala giochi Penny famosissima prima di lasciare money to springs non potevamo non 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 Prima di lasciare Manitou Springs non potevamo non fermarci dal Penny Arcade, ossia dalla sala giochi di Penny, con macchine addirittura che risalgono anche all'inizio del secolo 900, quindi dal 1900 poi, Pac-Man originali, Tetris originali, più altre macchine veramente c'è che non ho mai visto neanche io, hai visto quelli che giocavano a corsa dei cavalli? Quindi risalgono veramente proprio al tempo degli etruschi e le macchine lì, se non le conoscevo neanche io, pazzesco! Buongiorno amici, oggi Ale sentiva la mancanza e mi ha portato a Firenze No? Sì, andiamo a vedere Pitti Uomo Via dei Tornabuoni, Colorado, Contea di Fremont Quindi non andiamo a vedere Pitti perché la serie ha fatto la battuta della giornata, siamo a Florence, Colorado Visto, io sono appena arrivato qui a Florence Io invece ci sono da una settimana E questo è il centocinquantesimo anniversario della fondazione della città Diciamo la data? No, non la diciamo la data Perché la serie si arrabbia sempre quando faccio riferimenti alle date Poi la serie vi racconta una cosa pazzesca di questo paese Mi voglio far notare che la serie Come si dice in Mexican, sta estrenando Ha tirato fuori un altro paio di occhiali nuovi E pantalone paga come al solito Siamo arrivati davanti a questo posto E adesso Ale si azzarda a scendere e andare a chiedere Vediamo se non me lo arrestano subito E lo devo aspettare qui fuori e portarle le arance Che non gli ho portato l'altra volta Bye Allora, Ale è sceso Adesso vediamo cosa gli dicono Ma perché siamo venuti fino qua? Siamo sempre appena usciti dal centro della cittadina di Florence E pensate, abbiamo letto su internet Che qui c'è la prigione più di massima sicurezza in assoluto Di tutti gli Stati Uniti Pensate, per rendervi un'idea Che questa prigione è definita La Alcatraz delle montagne rocciose Allora, Allora, Allora so they they just you know when we read that it sounded to me like crazy and impossible but still i said we are here you know i'm gonna go and ask there's a lot of people that try and check it out and a lot of people go down this road and they go behind it oh my god they even get kind of crazy when people take pictures and things like that one day you can do it in your intent to arrest me, I tell you it's like our inscrito if you arrest us 100.000 inscrits all right the day as usual I read here on the internet that hundreds of thousands of people visit every year the prison, the prison etc etc I'm very calm so or very busy as if you say it's a pionbino I'm going to be quiet there from the agent to the Lagaritta and they say excuse me ignorance etc and these people have started to say go back, 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 go back quindi non è assolutamente possibile visitare il penitenziario anche perché ci sono veramente degli elementi ma degli elementi che metà vi basta facciamo proprio cioè un esempio il primo Joaquin Guzman il ciappo condannato all'ergastolo più 30 anni è stato trasferito qua a Florence nel penitenziario di massima sicurezza nel 2019 volevamo andare a portare le arance al ciappo ci siamo dove mi stai portando e questa cosa questa è una famosissima strada panoramica a senso unico qua di canyon city che si chiama skyline drive almeno è a senso unico anche perché ci passa ma la pena il van eccoci adesso vi faccio vedere una cosa topissima aspetto di arrivare eccomi amici vi ricordiamo che siamo sempre nella contea di fremont abbiamo appena lasciato la città cittadina di canyon city e prima di lasciare la zona abbiamo deciso di percorrere questa bellissima strada panoramica che viaggia tutto sulla cresta del monte non è tanto lunga e si chiama skyline drive fortunatamente è a senso unico perché come ho detto ci passa a malapena il van adesso vi faccio vedere il panorama che si può godere da quest'area non è 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 perché sì effettivamente come si dice qua in america è it's quite spooky il cartello di ingresso diceva che era interdetto ai mezzi di più di 20 piedi e siamo siamo 21 abbiamo fatto il finta di niente oggi ci siamo accorciati di un piede più piccolo e agile agile soprattutto per questa stradina non è non è Tappa obbligata Perché prima ci eravamo fermati un attimo per strada Ci avevano sorpassato decine e decine di macchine d'epoca E adesso le abbiamo viste ferme fuori da un liquor store Fuori da un diner se non so cosa sia Quindi abbiamo inchiodato Ci siamo fermati per vedere da vicino Perché sono spettacolissimo E sono tutte uguali Sono Ford Cobra Cobra 427 Alcune anche 289 modello E come ho detto Come ho detto sempre altre volte Anche per gente che non è appassionata come me Come noi Comunque in generale Quando vedi di questi eventi Di questi spettacoli Non puoi non fermarti e guardarli da vicino Perché da noi se ne vedono pochi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti amici dopo 231 giorni di viaggio è arrivato il fatidico giorno che tanto stavamo aspettando è finita la bombola del gas quando è arrivato il van a baltimore a gennaio abbiamo comprato una bombola da 6.8 chili qui negli stati uniti ovviamente per non portarla dall'italia anche perché sarebbe stato più difficile durante la spedizione in nave fortunatamente qui negli stati uniti è facilissimo cambiare la bombola o ricaricarla quello che uno preferisce fare oggi noi smonteremo la bombola da dentro il gavone la prepariamo per andare a cercare un posto che potrebbe essere walmart come qualsiasi altra stazione di ricarica per fare il pieno alla nostra bombolina l'operazione non è proprio così immediata perché dentro il gavone della bombola abbiamo l'impossibile di roba e quindi prima tocca togliere tutto dentro per arrivare alla bombola arrivare alla bombola si bridge a disposizione l'adattatore che è questo fra le bombole tedesche e le bombole americane cosa ci mancava ci mancava l'adattatore fra la bombola italiana e la bombola tedesca e quella lì si trova in italia senza problemi da qualsiasi posto di accessori per camper quindi questo adesso è il sistema di attacco per la bombola americana nella località in cui ci troviamo oggi la bombola la ricaricano qui dall'impresa che si chiama trattor supply che poi è un grande magazzino che vende roba per fai da te per un po tipo il nostro brì come non è cosa del genere mi piace allora abbiamo appena finito di caricare la bombola la bombola è di 15 libre 6.8 kg e ci sono stati dentro 4.8 galloni di propane quindi di gas tutta questa conversione per arrivare adesso alla cifra vi dirò quanto perché Ale è andato dentro a pagare alla fine quanto abbiamo speso? rapido e indolore 18 dollari la ricarica